Mancano due giornate in eccellenza e a parte la salvezza anticipata dell'Agropoli, meritatissima tra l'altro, anche se resta l'amaro in bocca per i playoff che potevano e forse dovevano essere alla portata, nulla è ancora deciso per le Cilentane. La zona che interessa le due squadre, Calpazio e Sapri, è la quota 37, cui le due squadre sono appaiate e che rappresenta il punticino di margine sulle sabbie mobili play-out. Analizziamo le situazioni delle due compagini. La Calpazio deve fare innanzitutto mea culpa e dire poco, bisogna essere onesti e realisti. Tante scelte del mister Santososso si sono al momento dimostrate sbagliate. Anche questi continui cambi, visti con l'Agropoli e poi con il Sant'Antonio Abbate dopo pochi minuti, hanno dato dimostrazione di una confusione totale nei capacesi. Quando dicevamo che quei pareggi scialbi interni, senza tirare in porta, non servivano assolutamente a nulla, non avevamo ragione, ma di più. Parlano i numeri, la Calpazio nell'era Santososso ha vinto solo tre partite, ha dilapidato un margine di vantaggio sulla zona play-out di oltre dieci punti nelle ultime nove giornate, partendo da quello 0-0 interno scialbo con il Santa Maria la Carità, che tanto abbiamo criticato. Poi una serie di match point falliti, con prestazioni discutibili, Apice, Baronissi, Solofra, fino ad arrivare alla partita ultima, quella con il Sant'Antonio Abbate, che è stata la ciliegina sulla torta. In bambola completa centrocampo e difesa, Rechi che entra esce come una lampadina da discoteca, spesso fuori ai margini da Vella e Borsa, che infortunati sì, ma hanno reso più di altri sani, per non parlare di D'Ambrosio, praticamente mai visto. Ovviamente con i secconi ma non si va da nessuna parte, ma è evidente che il rendimento della Calpazio nel girone di ritorno non è da play-out, ma da retrocessione diretta, con il peggiore attacco del campionato. In sostanza non si segna più, o si segna pochissimo. Detto ciò, per salvare il salvabile, le ultime due giornate portano prima a Sarno, domenica con la Sarnese, che festeggia la promozione davanti al popo pubblico, e non è poca cosa, e poi in casa con il Giffonise Casali, che nulla ha più da chiedere al campionato, trovandosi alle spalle dell'Agropoli. Potremmo racchiuderla così, senza vittoria in queste due partite per la Calpazio e play-out quasi certo, con una vittoria probabilmente la Calpazio potrebbe farcela in virtù degli scontri diretti delle altre, con due vittorie salvezza matematica. Sapri, ad esempio, che agli stessi punti della Calpazio, 37, ha due impegni da brivido, Costa da Malfi in casa, lanciatissima verso i play-off, e Scafatese idem, per giunta in trasferta all'ultima giornata, da accapponare la pelle e gli ultimi impegni dei sapresi. Per il resto, anche la Virtus Avellino, che ha un punto di vantaggio, rischia grosso figurarsi quelle dietro. Intanto il Cervinare è salito a quota 39 e dieci partite fa aveva pensate 15 punti di distacco dalla Calpazio. I numeri sono imprescindibili, chiudere con una salvezza per entrambe le compagnie cilentane per il nuovo corso che verrà, mettendo da parte gli errori sacitari nel caso del Sapri e tecnici nel caso della Calpazio, nell'anno che verrà, 2025.